In occasione della settimana nazionale della celiachia, gli alunni della San Giovanni Bosco e della Giovanni XXIII di Sernia hanno condiviso un menù senza glutine. Il comune ha accolto l'invito dell'Associazione Italiana Celiachia Sezione di Sernia mobilitando la mensa scolastica, mentre l'associazione ha offerto un panino e una crostatina, entrambi gluten free. Questa settimana noi ci stiamo rivolgendo ad un pubblico più ampio e quindi la popolazione scolastica ci permette questo. Inoltre nella scuola sono presenti dei bimbi celiaci che oggi rispetto agli altri giorni possono mangiare insieme ai loro compagni un pasto senza glutine e quindi la condivisione del pasto, quindi non solo per quanto riguarda ciò che può essere naturalmente senza glutine, ma anche oggi abbiamo il pane e un dolcetto che possono condividere con i loro amici. La dottoressa Francesca Scarabeo in qualità di assessore alla sanità ha garantito la disponibilità del comune a dotare la mensa scolastica di merende gluten free. Assicuriamo ai bambini celiaci il cibo per bambini celiaci con tutta la correttezza sia nella preparazione che nella distribuzione. La Scarabeo ha poi chiarito quanto sia difficile diagnosticare la patologia a fronte dello scarso numero di alunni celiaci serviti dalle mense. Per lei evidentemente ci sono famiglie che se ne fanno carico o accertamenti ancora da effettuare. Questo è un problema che proprio in Italia è un pochino una diagnosi sottostimata, che però poi se fatta tardivamente porta i pazienti ad avere delle grandi difficoltà, tipo anche anemia, arrivare anche nel caso delle donne ad un'infertilità, ad una debolezza, ad una difficoltà proprio della persona. E poi chiaramente l'intolleranza per il cibo che contiene glutine, quindi sia la pasta che il pane, e dolori intestinali, quindi un'infiammazione di tutta la mucosa intestinale. Se invece si fa inizialmente, e noi adesso abbiamo anche un test genetico addirittura che si può capire se c'è una predisposizione in fase pre-natale, questo permetterebbe ai bambini di non avere assolutamente alcuna difficoltà. Si leva semplicemente il glutine e si fa una vita del tutto normale senza alcun tipo di problemi.